Io ho visto, preparando l'intervista, che un annetto fa avevi messo un video sulla tua pagina Facebook, con uno dei tanti, in cui dice le dieci domande da non fare mai e non fai dal primo anno della partita. Ancora me le fanno adesso. Io spero di non fartele. Ancora me le fanno adesso. In tal caso non ti arrabbiare per favore. No, non mi arrabbiare. Allora, è vero che hai cominciato con la box da bambino perché eri iperattivo. Cioè tu giocavi a calcio, ma in realtà poi finiva spesso a calcio e pu... Insomma, era una cosa un po' a rissa. E soprattutto che il tuo primo, insomma, devi molto al tuo primo allenatore Silvano. Ancora adesso. Io dedico molte cose che ancora poco tempo fa ho fatto una dedica a lui. Perché lui mi ha cresciuto non solo come pugile, ma come uomo. È stato molto difficile quel periodo perché mio padre si è andato di casa. Quindi la figura è stato il mio maestro che quando l'ho conosciuto aveva 72 anni ed è morto a 86 facendo il padrino del mio primo figlio. Quindi da quello sono contento. Un apporto molto importante. Importantissimo. E' stato un maestro di vita poi tra l'altro. Esatto, un maestro di vita. Io mi ricordo che i pomeriggi uscivo da scuola e andavo a casa sua prima di andare in palestra e mi parlava, mi parlava, mi parlava, mi parlava, dei libri. E quindi a lui devo tantissimo. Il mio modo di essere come sono è molto tutto su di lui. Quali sono le caratteristiche che deve avere un legionario come te? Quali consigli puoi dare ad un ragazzo che vuole seguire la tua strada? Ma io poco tempo fa, no, ormai sono 4-5 anni che un giorno mi sono messo e ho buttato giù il codice del legionario che sono tra virgolette 10 comandamenti. Quindi ce l'ho anche tatuato sulle dita. Quindi ogni... L'edita è una qualità. Ma è la stanza che mi metto a leggere tutte. Però, guarda, più di tutti, io quello che fa la differenza, oltre a... La P, ho detto, infatti, di perseveranza. Se un ragazzo ha un sogno da non inventarsi scuse, perché tanto quella vocina interna ce l'abbiamo tutti. Quella dicono, no, oggi no, non fa per te. Poi c'è pure il contorno, che delle volte è peggio. Una volta ti fai male, non ci andrà, chi te lo fa fa. E quindi invece no, se uno vuole una cosa, ti aggredire sempre in quello che vuole fare. Sfatiamo un tabù. Gli atleti dell'MMI sono persone violente. Secondo me la violenza sta anche negli stadi. Ma sta da un'altra parte. Quindi sfatiamo questo tabù, non è vero ovviamente. Ma non è vero che no. Perché ti spiego, io quando ho combattuto adesso da Beco Carvaglio, nessuno mi ha puntato la pistola e nessuno mi ha puntato la pistola. Poi alla fine uno va a bere insieme. Sappiamo quello che facciamo. La violenza inizia quando tu, io ti obbligo a fare una cosa che tu non vuoi fare. Lì è violenza. E non è uno sport che può sembrare un po' aggressivo. C'è di peggio. Quando entrate nella gabbia lo fate... A due cazzo in caccia. Quanto è cambiato l'MMI nel corso degli anni? E soprattutto quanto è cambiata la percezione di questo sport in Italia? Tu da quanto lo fai? Dal 2000? Io ho tutta la fase. Quindi sia quella... Io entravo che... Io le chiamo le tre generazioni, no? C'è la prima generazione che era una disciplina contro un'altra disciplina. La seconda generazione che è la mia. Che è quella che erano bravi in una disciplina e iniziavano a imparare le altre. Poi c'è adesso la terza generazione che è quella di giovani, soprattutto all'estero, che entrano nelle palestre di MMI e sanno fare tutto. Forse è cambiata solo una cosa tra la terza e la seconda generazione. Che forse tecnicamente quelli della terza generazione sono molto più tecnici di noi perché sanno fare tutto, mentre noi sapevamo fare benissimo una e imparavamo le altre. Però la terza generazione non c'hanno nel DNA il sacrificio che avevamo noi. È tutto più semplice adesso. Fare un viaggio è più semplice, allenarsi è più semplice. Noi invece ci dovevamo prendere la macchina, andare a far pugilato da una parte, lotta greco-romana da un'altra, giugizzo da una... E quindi da una parte ci sono i pro e i contro. Quali sono i rischi più grandi di un combattimento? Ed è vero che temete soprattutto le dita negli occhi? Sì, perché ci sono i guantini e delle volte uno non lo fa apposta. Per difendersi dall'avversario apri la mano per stopparlo. Delle volte involontariamente metti la testa o il dito addirittura nell'occhio. C'è chi lo fa apposta di proposito, ma sono rari le persone che lo fanno apposta. E delle volte invece capita. E quello è teme perché poi dà fastidio nel combattimento. Quante ore ti alleni al giorno e quanti giorni alla settimana? Ok, dipende le fasi. Ci sono varie fasi durante l'anno. Nella fase prima del combattimento, tre mesi prima del combattimento, ma le no 4-5 ore al giorno, suddivise, mattina e sera. Dal lunedì al sabato. La domenica faccio recupero attivo, quindi sarebbe di una corsetta o stretching, quindi non è mai fermo. Oppure piscina. Tu nella tua carriera hai girato molto per affinare la tua tecnica, sei andato in Colombia, in Brasile, hai girato moltissimo, fino agli States ovviamente. Quanto è importante per un lottatore aggiornarsi e tenersi sempre a passo con i tempi? Sempre. Fai conto che io adesso sono stato a fare, ho lasciato come hai detto te, la televisione per andare a fare il mio camp con il mio team 5 settimane in America. È importantissimo perché questo sport sta in evoluzione sempre, quindi devi sempre allenarti con i migliori per essere un migliore. Visto che bruci così tanto, ma quanto mangia Alessio Sakara e soprattutto quali sono i cibi dei quali non puoi fare a meno? Adesso non sto a mangiare niente, infatti hai toccato un momento. T'ho fatto una domanda sbagliata. Però vabbè, te la passo. Me ne passi solo una però. No, te la passo. Però quello che io preferisco tantissimo, o lo sanno tutti, è il gelato. Amo il gelato, infatti aspetta il 10 dicembre. Fuori dalla palestra quali sono i tuoi hobby? Cinema, teatro, leggere i libri, stare con i miei figli, il cane. Ah, ce n'è parecchie. Comunque i miei amici mi dicono tutti, non è legionarius pantofolarus. Che io alle 11 sto a casa e chiudo tutto. La domanda più difficile di tutte, sei famoso anche per i tuoi tatuaggi? Sì. Quanti ce n'hai? Siccome non me lo ricordo, a tutti io dico è uno tutto insieme. perché non mi ricordo più quanti ce n'hai. Quindi è uno tutto insieme, capito? Tamponi, con la macchina per strada, l'altro scende e ti insulta senza sapere chi sei. Già è capitato. Ah, io. Allora tu che fai? Scendi e fai il CID civilmente oppure passi alla fase regionale? Vuoi ridere o non vuoi ridere? Ti faccio ridere. Io penso che stai su scherzi a parte. Io stavo fermo con la Smart perché uno doveva parcheggiare davanti a me. Ok? La signora mi ha detto ti puoi fare un po' più indietro, visto che ti fanno i gesti? Sì, sì. Io con questo avviato i liconi. Io vado indietro, do una botta forte a quello di dietro. Io stavo a Smart. E questo scende e inizia a insultarmi. Io ero ad estate tipo, 31 agosto, vabbè comunque. Le mani sul volante, io non potevo fare niente perché mi ero appena operato al crociato. Forse è stato fortunato. Cosa che ha fatto questo? Ha messo la mano dentro la caposcia, ma guarda. Oh, tutto a posto, non mi ha fatto niente. E se n'è andato perché stavo a un cannottiere. Io penso che stavo scherzi a parte. Quindi mi sono salvato. Te sei salvato. Te sei salvato. Grazie. 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 Grazie.